Il fenomeno del bullismo, una realtà rispetto alla quale si sta muovendo istituzionalmente l'ufficio del consigliere di parità della provincia di Taranto, l'avvocato Gina Lupo. Abbiamo analizzato i soggetti di questo fenomeno, le modalità. Ora consideriamo le conseguenze perché ovviamente la vittima sicuramente riporta pesanti traumi, pesanti conseguenze rispetto a questa condotta subita. Avvocato Lupo, rimane un trauma pesante, anche in termini medici si potrebbe parlare di disturbo post-traumatico da stress, proprio un qualcosa che detto in parole povere rimane sulla pelle e sulla psiche del soggetto vittima. Abbiamo detto che la vittima del bullo è una ragazzina insicura, timida, per cui dobbiamo anche immaginare il contesto in cui si trova. Non racconta quello che gli accade nella sua famiglia. È rarissimo. Il genitore se ne accorge quando già è vittima, il proprio figlio o la propria figlia di bullismo avanzata. Se ne accolgono già quando siamo arrivati magari delle conseguenze molto gravi. Ci sono dei ragazzini che si sono chiusi nelle loro camere e hanno tentato il suicidio. Luigi, non hanno avuto la forza di raccontare perché intanto sei all'interno di un vortice di debolezza estrema perché già tu sei insicura, hai una bassa autostima, pensi di non essere creduto. Ma poi incancrenito all'interno di una classe, Luigi, la vittima ha paura anche di raccontarlo, ha paura delle ritorsioni. Perché tu che fai? Lo racconti in famiglia. Magari papà e mamma vanno a scuola e si vanno ad arrabbiare con l'insegnante perché il proprio figlio ha subito un bullismo. E poi che fai? Lo lasci in balia del bullo il giorno dopo. Io come assessore sono anni che vado nelle scuole cercando di parlare con le classi. Noi parliamo con le classi per cercare di far venire fuori i problemi di bullismo perché in quel momento il ragazzino si può sentire aiutato a raccontare e a parlare. Perché altrimenti la ritorsione ci sarà il giorno dopo, il giorno dopo ancora. E il bambino soffre, soffre in silenzio, ha un'autostima ancora più bassa, si chiude nell'isolamento, il genitore non riesce a comprendere il perché. E ci sono stati purtroppo anche casi di suicidio. Ecco perché dobbiamo essere e siamo chiamati tutti ad una massima vigilanza. I primis le famiglie, Luigi, poi la scuola e poi le istituzioni che devono fare il loro compito.